In una location assolutamente straordinaria all'interno del castello Svevo di Augusta per una visita informale per controllare lo stato dell'arte abbiamo il neoassessore alla cultura, la dottoressa Sgarlata. Intanto con questa occasione le facciamo le congratulazioni sia perché donna, perché siracusana e perché archeologa quindi addetta ai lavori. Un commento a caldo dopo questa visita? Proprio perché si dice che sono la persona giusta al posto giusto, queste visite hanno su di me un effetto da shock. Mi fanno capire quanto in realtà noi dobbiamo impegnarci per il recupero del nostro patrimonio monumentale e quanto questo debba essere fatto in tempi brevi, almeno per quello che riguarda gli interventi di consolidamento, di contenimento anche dei dissesti strutturali dei nostri monumenti e in particolare naturalmente del castello Svevo di Augusta. Quindi il mio impegno è indirizzato sicuramente al recupero di quello che è il progetto in assessorato e quello che è il progetto che riguardava complessivamente il restauro e il progetto di conservazione del castello Svevo e all'interno di questo capire, oltre a quelli che sono gli interventi di sommorgenza e quelli che sono a disposizione dell'assessore, quindi quelli che ci consentiranno comunque di bloccare intanto quelli che sono gli episodi più complessi naturalmente, più pericolosi, quelli che in qualche modo devono essere, sui quali si deve fare un intervento urgente. Per il resto invece riprendere il progetto e vedere se all'interno naturalmente di una programmazione che non è soltanto quella dei fondi che si stanno diciamo completando adesso, cioè quelli i POFESR, fondi europei naturalmente, del 2007-2013, all'interno dei quali è stato presentato il progetto sul castello, ma anche vedere se in qualche modo la programmazione 2014-2020 ci può dare un respiro maggiore e può aiutarci a iniziare questi cantieri e anche a concluderli, perché abbiamo visto tante incompiute negli anni e io mi sono sempre lamentata di queste incompiute da archeologa, da ispettrice anche per le catacombe, quindi adesso mi trovo dall'altra parte e allora vorrei evitare le incompiute. Facciamo una piccola sintesi per chi non ha ascoltato perché abbiamo un po' commentato durante questa visita. Possiamo dividere in due grandi opere che sono quelle di tutela e quelle dell'urgenza. Per quanto riguarda le urgenze sicuramente ad Augusta abbiamo il crollo del Rivellino che è tra i più recenti. Prevedete un intervento tempestivo? Assolutamente sì, concordato con la soprintendenza. Adesso vedremo in che termini, in che modi questo si potrà fare ma è chiaro che adesso si tratta di intervenire appunto su quelli che sono gli episodi più drammatici diciamo dello stato di salute del monumento e poi programmare invece interventi di altra natura. Toccando nel cuore i suoi interessi parliamo della zona di Megareblea chiusa e interdetta da anni. Per quella zona quali prospettive? Per quella zona, anche per quella zona naturalmente bisognerà pensare a una riqualificazione intera dell'area, a un potenziamento, anche una valorizzazione del sito, anche dello spazio espositivo che è lì all'interno. E questo naturalmente dovrebbe rientrare sempre comunque in un'utilizzazione sana, corretta, dei fondi europei che non sono solo rappresentati dalla nuova programmazione diciamo 2014-2020 ma anche da tutta un'altra serie di rubriche che sono quelle legate ad esempio agli attrattori culturali, poi in... e quindi vedere come inserire questa progettualità all'interno ecco di una strategia più ampia che poi è una strategia comunque di potenziamento, di valorizzazione del nostro territorio. Tra i suoi punti di forza quelli che un po' tutti diciamo mettono in luce c'è non solo i suoi studi ma anche la sua carriera da attivista quindi noi speriamo anche da questo punto di vista di poter contare su questo. Poi le volevo chiedere una domanda sul tema di questi giorni, un commento sulla tabella H, cos'è accaduto, ci racconti un po' i retrosceni. Allora io avevo lavorato molto su questa tabella H prima che arrivasse diciamo al dibattito parlamentare e avevo lavorato perché avevo già individuato un numero di 33 enti, istituzioni, musei naturalmente, fondazioni che secondo me avevano in realtà, potevano realmente aspirare a... avevano insomma i requisiti si potrebbe dire per accedere all'utilizzo dei fondi. Quindi avevo già fatto una sorta di valutazione sullo stato di salute di queste fondazioni, di questi enti, cioè il bilancio, il tipo di lavoro prodotto, l'attività prodotta, le pubblicazioni fatte in quegli anni e avevo selezionato appunto una buona parte fra cui entrava naturalmente il Museo Mandralisca e altre fondazioni che tutti conosciamo, no? Che sono, fra l'altro, versano in gravissime difficoltà economiche e sono arrivata al dibattito parlamentare proprio con questa prima selezione, no? Sperando che fosse accolta e vicenda. Poi lì invece è rientrata in gioco tutta la tabella H e sono rientrati invece questi tagli lineari su tutti i capitoli di spesa della tabella H che hanno rimesso appunto tutte quelle fondazioni, musei, vi ricendo, che erano state esclusi da questo mio primo elenco. Io credo adesso che, dopo che è stata impugnata la tabella H appunto dal commissario, credo che l'indirizzo voluto dal Presidente sia quello corretto, sia quello giusto, cioè di realizzare un bando, un bando nel quale naturalmente vengono fissati i requisiti che le diverse fondazioni e istituti debbano avere per poter accedere all'utilizzo di questi fondi e quindi poi chi avrà questi requisiti, che erano quelli comunque che io ho stabilito, che erano stati stabiliti al mio assessorato prima del dibattito parlamentare che poi ha rimesso nuovamente la tabella H in circolazione, diciamo, è presentata poi all'interno della finanziaria, allora io credo che lì si potrà intervenire in modo più meritocratico. Quindi più trasparenza, meno iniquità. Però per quanto riguarda, questa è una mia curiosità libera di rispondere o meno, il suo rapporto con Antonio Presti ha rifiutato questi fondi, ha rifiutato il suo ruolo, ma lei in che rapporti è? Cosa pensa? Un commento riguardo. Io stimo moltissimo Antonio Presti come persona, anche come mecenate, come uomo che si è tanto impegnato nel mantenere alto il senso, il valore della cultura, anche il senso etico della cultura, anche questo suo rinunciare all'importo che riguardava appunto la fiumara d'arte nella tabella H, penso che ha avuto un valore dirompente. Ciò ci abbia fatto capire a tutti quanti, come sempre nel caso di Antonio Presti, quale sia il reale valore della cultura per noi, che è sì un valore ovviamente economico, ma che è anche un valore legato alla nostra storia, alla nostra identità e a quello che siamo, che siamo adesso.